Questa è un'operazione molto importante che ha fatto emergere gli agganci che anche dal carcere si riescono a tenere fuori per mantenere questo, tra virgolette, loro controllo del territorio. È stata l'intercettazione di una lettera partita dalla cella del carcere di Lecce occupata dall'ergastolano Christian Pepe a far partire nel 2017 le indagini culminate all'alba con l'emissione di 72 ordinanze di custodia cautelare e che vede indagate complessivamente 110 persone. Il clan Pepe, gestito dal carcere da Christian e dall'esterno dal fratello Antonio, avrebbe preso il controllo del capoluogo estendendosi anche in provincia, ben 10 chili di cocaina spacciati settimanalmente, ma le casse del clan si sarebbero gonfiate anche con la manipolazione di scommesse in una sala bingo della provincia. Con le intimidazioni costringevano i gestori della sala bingo a far vincere componenti del clan. Per quanto riguarda alcune sale giochi, questi soggetti sono riusciti a incidere pesantemente, tanto da costringere i responsabili di queste sale giochi a modificare le dinamiche normali per ottenere delle vincite illegalmente a favore di propri appartenenti. Interessi anche nei concerti al Parco Belloluogo con incassi puliti che sarebbero arrivati dalla vendita di cibi e bevande, parcheggi abusivi, vigilanza, ma soprattutto droga. Nel Mirino il concerto di Gianna Nannini e quello dei Sud Sound System del 2018, il primo cambio sede, il secondo venne annullato. In questa circostanza sarebbero coinvolti anche amministratori locali che dal clan avrebbero subito minacce, ma su questo aspetto l'indagine prosegue così come da verificare la relazione tra i gestori del Parco e il clan. C'è anche un interessamento a attività che sono attività per esempio di spettacolo nella fattispecie. Questi soggetti nel momento in cui si fosse manifestato o si è manifestato una difficoltà per la tenuta di questi spettacoli non hanno, come dire, perso tempo anche a tentare di minacciare, di incidere per modificare questa scelta dell'amministrazione. Al clan sono attribuiti anche diversi episodi criminali, come l'incendio dell'auto del comandante dell'arma dei carabinieri di Surbo e alcuni dei recenti attentati che si sono verificati a Lecce e provincia dagli ordigni ai colpi d'arma da fuoco.